Buonasera, a distanza di un anno, perché giusto un anno fa abbiamo presentato proprio in questa sala, se non ricordo male, il precedente libro di Valentine Lomellini, insegna all'Università di Padova, l'importante libro, quello su Lodomoro, e adesso ne ha sfornato un altro che è estremamente interessante, poi vorrò discutere di un paio di punti che è stato grandemente legiato da Paolo Mieli quando ne ha anticipato la pubblicazione con un articolo su due pagine del Corriere della Sera, che Paolo Mieli tra le varie cose ha messo in evidenza come la storiografia sulla guerra fredda italiana, ma possiamo dire anche quella internazionale, non ha affrontato il problema del terrorismo internazionale e come questo ha interagito con tutte le dinamiche politiche che sono molte di vario genere per molti decenni. Io direi poi, spiegherò perché, dopo estenderei anche il periodo precedente degli anni 60 perché c'è per esempio che funziona il terrorismo di alcuni stati e paradossalmente di uno stato che non si penserebbe, cioè la Jugoslavia. La Jugoslavia fin dall'immediato dopo guerra ha messo in atto una campagna sistematica di assassino degli oppositori politici. e gran parte di quegli assassini si sono svolti in Germania, ma i primi sono cominciati in Italia nel 46 e su questo ritornerò dopo. Questa carenza della storiografia sulla guerra fredda nell'affrontare questa dimensione appare un'altra carenza della storiografia degli studi sull'Unione Sovietica e poi sulla Russia post-sovietica in cui il ruolo della sicurezza di Stato, del KGB, il pilastro del potere senza il quale il regime non sarebbe sopravvissuto, viene negletto. Ci sono interi libri di storia dell'Unione Sovietica che non citano il KGB tranne che per indicare che magari Andropov, prima di essere il segretario generale del QS, era stato per molti anni il presidente del KGB. E anche questo è un qualcosa con cui la storiografia, soprattutto quello che è accaduto in Russia nell'ultimo anno, a partire dall'invasione del 24 febbraio, sta facendo ripensare molte cose che per alcuni erano molto evidenti già da molti anni, ma che adesso sono, come dire, arrivate a una resa dei conti. Ma qui non parliamo di Unione Sovietica, di Russia e di Putin, ma parliamo di un periodo cruciale della guerra fredda, perché gli anni 60, 70 e 80 che coprono l'analisi del terrorismo internazionale, ma anche l'analisi delle risposte degli organismi di sicurezza europei. Organismi di sicurezza che capiscono molto bene molte cose, ma quando poi si trovano a coordinarsi, a discutere, sembrano che siano afasici e incompetenti. Fin da subito capiscono che dietro determinate azioni c'è sempre la stessa mano, che si presenta con una faccia, come dire, per bene, per ottenere il riconoscimento politico e dall'altra parte usa in modo estorsivo gli attentati. Eppure a leggere questo lavoro di scavo fatto su molti archivi, sembra che nelle riunioni di Trevi, degli altri comitati, eccetera, ci sia un branco di fessi, che quando vanno a trattare in ordine sparso, e ci sono i tanti lodi, perché lei ha fatto il libro sull'Odo Moro, ma c'è un lodo svizzero, c'è un lodo austriaco, c'è un lodo tedesco. L'Europa è piena di questi accordi, anche gli Stati Uniti ad un certo punto, pur denunciando coloro i quali vanno a trattare con il terrorismo, ne fanno uno in Libano. Quindi il primo probabilmente è quello britannico, ma che non è una questione di primogeniture. E' che questa dimensione della trattativa, poi c'è quella francese che... Quindi negli studi della guerra fredda, che comincino gli storici della guerra fredda italiani, dopo questo libro non possono ripensare alcune delle cose che hanno scritto. Bisogna dire che poi nelle riunioni che vedevano gli esponenti dei ministeri degli interni, dei servizi di sicurezza europei, per un certo periodo c'è stata quasi un'ossessione anti-russa, anti-sovietica. Nel libro lei scrive che ovviamente, letta anche col senno di poi, questa è un'ossessione, c'è un pregiudizio, come c'è un forte pregiudizio anti-israeliano. Cioè gli israeliani sono quelli che danno all'intelligence europea le migliori informazioni, ma a vedere che cosa si legge in alcune citazioni di verbali, sembra che agli altri gli facciano schifo perché sono ebrei. Perché poi questa è la sostanza, il pregiudizio da dove può venire, dalle informazioni buone o dal fatto che vengono da loro. Questo porterà alla tragedia di Monaco, tra le altre cose. Tutte le informazioni su quello che potrebbe accadere a Monaco vengono neglette. E non solo vengono neglette, c'è un'incompetenza assoluta da parte degli organi di sicurezza tedeschi. E poi c'è qualcosa di più grave ancora, perché negheranno quello che è successo, nasconderanno le carte, non vorranno dare i documenti alle famiglie. Perché già lo shock sarebbe, si doveva nascondere che cosa? Che tutti sono stati torturati. I morti carbonizzati, i nove morti carbonizzati, quelli che muoiono in questo maldestro tentativo, otto terroristi, cinque tiratori scelti. Poi i tiratori scelti erano quelli perché andavano una volta ogni tanto al poligono. Una beffa. E poi ci sono anche sparati fra di loro. E altri hanno sbagliato aeroporto. Le autopsie sui carbonizzati hanno fatto trovare a tutti le ossa rotte. E non è stato il fuoco. Ma i due che vengono uccisi subito perché hanno reagito, tutti e due vengono torturati, e uno dei due viene violentato e virato e lasciato morire davanti agli altri. Tra l'altro che i terroristi non hanno toccato un dito agli atleti israeliani. E questa menzogna è stata coperta per decine, per oltre vent'anni, dalle autorità tedesche. In modo inspiegabile. In tutto questo, nonostante che i familiari di alcuni di questi abbiano condotto una lunghissima battaglia con le autorità. Ed è stato anche una cosa grottesca il risarcimento che il governo tedesco ha voluto dare alle famiglie delle vittime. Perché per 11 vittime, dopo decine di anni, hanno proposto di dare 2 milioni di dollari. Che poi, di fronte all'incomprensione anche della stampa tedesca, alcuni anni dopo, sono stati portati a 5,5 milioni di dollari una tantum per questioni umanitarie. Soltanto anno scorso, perché per il cinquantesimo anniversario della strage il governo tedesco voleva fare una grande operazione di public diplomacy, se i familiari hanno fatto una sorta di ricatto, hanno detto che non si sarebbero presentati e non si sarebbe presentato di conseguenza il presidente di Israele, perché a questo punto hanno aumentato a 28-29 milioni di euro. Pensiamo che Gheddafi, per Lockerbie, ha pagato 10 milioni di euro per ognuna delle 270 vittime. C'è qualcosa che fa pensare male in tutte queste vicende internazionali, eccetera, ma io qui adesso mi taccio, è lei che ha scritto queste cose e ci deve raccontare un po' il libro. E che cosa? Dopo intervenire. Vorrei intervenire subito. Buonasera. No, io dico una cosa veloce, perché bisogna un libro farlo raccontare dall'autore, non semplicemente da chi lo ha letto, che non avrebbe il tempo e neanche la capacità di fare sintesi. Dico però che, un po' l'ho già accennato Fernando, questo libro è un contenitore più grande, e mi verrebbe da dire di quello che invece è stato il primo libro di Valentine che si è concentrata sul Lodomoro. Non so quanti di voi ne hanno sentito parlare, però finalmente abbiamo un libro che certifica l'esistenza del cosiddetto Lodomoro, anzi per essere più precisi. E cioè un accordo di intelligence tra Stato italiano, governo italiano, e la sua struttura di intelligence, con la grande galassia, diciamo così, del movimento, non è esattamente corretto parlare del movimento terroristico, ovunque delle forze palestinesi, non solo, che erano, ormai sono passati diversi decenni, cominciamo a non ricordarcelo più, ma erano quotidianamente sulle pagine di tutti i giornali per la quantità e la qualità, verrebbe purtroppo da dire, di attentati, soprattutto di rottamenti, che avvenivano nell'Europa degli anni 70, ovunque, ovunque, e per non parlare dei grandi attentati, in Italia, Fiumicino, ma altrove e molti altri, l'aeroporto di Orly in Francia. Ecco, la cornice più ampia che ora Valentin racconta in questo libro è quello di come l'intera Europa occidentale fece fronte a questa minaccia, che era una minaccia grave, ripetuta nel corso di più anni, il libro prende in esame il periodo che va dal 67 all'89, quindi parliamo di oltre un ventennio, che ha fatto una quantità terribile di vittime e che non accennava a placarsi e il modo in cui, in qualche modo, le democrazioni occidentali cercarono di farvi fronte fu appunto una serie di strategie di appeasement con questa galassia, in qualche modo, palestinese, non solo legata all'OLP, ma anche a altre organizzazioni. Poi, in realtà, nel corso degli anni, il fulcro del terrorismo si sposterà verso altri paesi, la Libia, di Gheddafi principalmente, e poi l'Iraq, ma questo ce lo racconterà Valentin. La vicenda europea di quegli anni è contrassegnata da una serie infinita di gravi episodi, drammatici, sanguinosi, anche eclatanti, particolarmente eclatanti, è una cosa che io sottolineo, quando terroristi, non solo palestinesi, ma anche tedeschi, assaltarono la sede dell'OPIC a Vienna, quindi era un attacco contro, come dire, il potere economico dei paesi medio orientali. Certo, in nome della resistenza, chiamiamola così, palestinese, ma era un attacco nel cuore dell'Europa e nel cuore del potere degli stati, delle nazioni medio orientali, dei produttori di petrolio, appunto, dell'OPEC. Strategie diverse, da parte dei paesi diversi, coordinate fino a un certo punto, mi vorrebbe da dire, con, come dire, alcune declinazioni nazionali specifiche, la vicenda tedesca l'ha già in qualche modo anticipata, Fernando, però, ecco, in tutto questo, io metto lì solo questa domanda, poi magari ne parliamo più avanti, alla fine, la conclusione di tutto questo libro, che è fatto di gran documentazione diplomatica, è un lavoro di una storica, quindi lavora sulle carte, il titolo della tua conclusione è un po'... fa un po' pensare, no? Nel senso che tu parli di una strategia alla fine win-win, mutuandola dalla teoria dei giochi, cioè che entrambi hanno vinto, per essere un po' grossolani, per spiegare in maniera un po' breve, e che quindi hanno vinto le democrazioni occidentali, in qualche modo hanno fatto fronte a questa minaccia, ma hanno vinto anche coloro i quali questa minaccia la portavano, certo a costo di decine di vittime, di uno stato di fibrillazione, che ha tenuto, non dico bloccata l'Europa per vent'anni, però insomma, se non bloccata poco ci manca, la minaccia era costante, ed era una minaccia non solo ad obiettivi, cioè una minaccia indiscriminata, gli aeroporti, gli aerei, no? Ecco, questa cosa, di una strategia che alla fine è win-win, fa un po' pensare, perché, come dire, pone anche il problema, come dire, un problema etico, a cui in qualche modo bisogna cercare di rispondere, cioè abbiamo fatto questo, l'Europa, non solo l'Italia, l'Europa intera ha fatto questo, sì, forse ne siamo usciti, vivi, tra virgolette, però a quale costo, no? Questo mi sembra che al di là di tutta la, ultra dettagliata, l'ultra dettagliato racconto di tutte queste vicende, ma proprio, come dire, nei retroscena, nei retroscena diplomatici, nelle carte documentali che non compariono sui giornali, evidentemente, e che è un lavoro che si può fare oggi, che sono passati diversi anni, ecco, alla fine la domanda che uno può legittimamente porsi è esattamente questa, win-win davvero, oppure appunto a quale costo, quale costo ha comportato questo, non solo in termini di vite umane, ma anche in termini di, diciamo una cosa, di integrità morale delle democrazioni occidentali. Bene, grazie intanto per l'invito, per Nornorlandi, appunto il CSEO, grazie a Paolo, ormai siamo una coppia, quasi, di fatto, non di fatto, una coppia scientifica, diciamo così. Bene, grazie per l'invito, è sempre, insomma, un piacere essere qua, essere qui a discutere appunto di, di questi temi così spinosi, come, come hanno già anticipato i due colleghi precedentemente, che però mi hanno lasciato, come dire, un grande peso, cioè quello, spiega tutto il libro, ma possiamo stare qua qualche ora adesso, a questo punto. Allora, cercherò di, così, sintetizzare alcuni dei tratti fondamentali, che, che mi hanno portato a scrivere questo volume, e magari, appunto, intersecando la, la mia spiegazione con alcune delle risposte, alle, alle questioni importanti e fondamentali che avete posto. Questo libro nasce, in realtà, tanti anni fa, ormai, circa sette, otto anni fa, il mio interesse per, scientifico, ovviamente, per il terrorismo, è un interesse, diciamo, di più lungo periodo, ma nasce un po' sette anni, sette, otto anni fa, quando ho iniziato a occuparmi della sicurezza, in un periodo storico molto diverso, in un periodo storico dell'Italia tardo liberale, e nasce in quella, in quella circostanza, perché in realtà, mi rendo conto che, non esistono lavori sul terrorismo internazionale, anche se il terrorismo internazionale, ci dicono i database, della Rand Corporation, e anche di altre organizzazioni, che a livello mondiale, si occupano di sistematizzare, e leggere i dati degli attentati, a livello globale, il terrorismo internazionale, ha interessato per primo l'Europa, questo è un primo dato di fatto, che secondo me, è importante ricordare, noi, appunto, la nostra generazione, la generazione precedente, e in parte, quella successiva, si ricorda come elemento di cesura, a livello mondiale, del sistema delle relazioni internazionali, l'11 settembre 2001, ma nessuno, in realtà, si ricorda, o appunto, ha approfondito il fatto, che in realtà, il terrorismo internazionale, extra europeo, extra occidentale, direi, utilizzando un'espressione, un'espressione un po' forzata, se si vuole, ha interessato, tutti i paesi europei, esattamente come diceva prima, Paolo Morando, la Francia, l'Italia, l'allora Repubblica Federale Tedesca, la Svizzera, la Gran Bretagna, l'Austria, cioè tutti i paesi, tutti i grandi paesi europei, sono state vittime di attentati, in una strategia indiscriminata, quindi non solo, diciamo, attentati che tecnicamente, si chiamano selettivi, che quindi riguardano, una persona, che riveste una particolare posizione, facciamo l'esempio su tutti, quello del rapimento, e poi dell'omicidio di Aldo Moro, e dei cinque agenti della scorta, ma uno stragismo, quello che in Italia, noi chiamiamo stragismo di massa, e questa assenza di memoria, mi ha un po' così mosso, perché ho iniziato a pensare, ma perché non se ne parla, e piano piano, lavorando a questo volume, volume ho un po' capito, perché non se ne parla, cioè fondamentalmente, perché per una serie di ragioni, che cercherò di illustrare brevemente oggi, gli stati europei, sono stati indotti, a attuare appunto, una strategia di appeasement, cioè cercare di conciliare, con gli attori, che perpetravano questi attentati, a livello internazionale, la storia, e quindi anche il libro, inizia nel 1967, perché con il 67, la guerra, appunto, arabo-israeliana di quell'anno, che la resistenza palestinese, esce frustrata, da appunto, una sconfitta, sai, cocente, rimane esclusa, dai negoziati, per l'eventuale creazione, appunto, di uno stato palestinese, e per la risoluzione, in termini generali, del conflitto, e quindi cerca, di trovare un'altra strategia, per uscire da questo on-pass. La strategia è un po' quella, di Davide contro Golia, quindi, cosa si fa, quando ci sono, delle condizioni profondamente impari, a livello militare, degli stati, o uno stato, in questo caso, dell'Israele, contro un popolo, che appunto, in larga parte, disorganizzato, e disarmato, si cerca di riequilibrare, questo conflitto, utilizzando, un metodo di lotta, non convenzionale, cioè il terrorismo. Il terrorismo, viene utilizzato in realtà, sin da subito, appunto, da una parte, del movimento palestinese, ma con il 67, e dopo il 67, si decide, di internazionalizzare, la lotta, con un ragionamento, estremamente razionale, che è quello appunto, di ottenere, un'amplificazione, della, delle proprie necessità, della propria causa, a livello globale. Come farlo? Andando appunto, a colpire, gli stati, che avrebbero potuto, in qualche modo, sostenere, foraggiare, la causa, della resistenza palestinese, forzandoli, quindi, a prendere coscienza, dell'esistenza, di questo problema, e inducendoli, attraverso una, diplomazia coercitiva, la diplomazia del terrore, che dà il titolo al libro, ma che è un termine, che io ho trovato, nella documentazione, coeva, cercando appunto, di indurli, a modificare, la propria politica estera, rispetto a questo tema specifico. Allora, in realtà, il tentativo, che io ho fatto, e qui vado subito, al win-win game, è stato un tentativo, anche, sotto profilo metodologico, un po' diverso, rispetto a quello, di uno studio storico, tradizionale, perché, a parte il fatto, appunto, di aver cercato di coprire, con le fonti, un grande, c'è un periodo storico, di lungo periodo, ma il tentativo, è stato quello, di capire, qual è stato l'impatto, del terrorismo, sulle relazioni internazionali, perché, noi tutti, ci ricordiamo, qual è stato l'impatto, sulle nostre singole vite, io mi ricordo, appunto, dopo l'undici settembre, già avevo paura, di volare prima, dopo, dopo l'undici settembre, la volta che vedevo un aereo, pensavo, ma chissà, cioè ha avuto un impatto, sulle nostre vite, nella limitazione della mobilità, pensiamo, ad esempio, agli attentati compiuti, in tempi recenti, con dei mezzi, assolutamente non raffinati, un coltello, un, un camion, che appunto, un'automobile, che hanno condizionato, le nostre vite, allora, se hanno condizionato, in modo così diverso, le vite, dei singoli cittadini, dei paesi, come si può pensare, che non abbiano condizionato, le politiche esteri, di questi paesi? Dico solo una cosa, prima, tornate in mente, adesso, mentre sentivo Valentin, nessuno di noi, ci ricorda, che alla fine degli anni 60, prima degli anni 70, si montava sugli aerei, di per sé, senza dichiarare, la propria identità, cioè, non c'era una forma di controllo, cioè il biglietto nominale, ok? Pensiamo quanto, non solo quanto tempo, è passato da allora, ma quanto oggi, una vicenda, una soluzione del genere, sembra assolutamente impraticabile, proprio per tutto quello, che è successo, in tutti questi decenni. Sì, tra l'altro, appunto, colgo la palla al balzo, Paolo, perché in realtà, queste misure, di contenimento, e di controllo, negli aeroporti, vengono introdotte, in seguito a questi attentati, della fine degli anni 60, inizio anni 70, precedentemente, non esistevano, le liste dei passeggeri, degli aerei, non si parla poi, dello scan, che appunto, all'epoca, era considerato, un mezzo assolutamente, incapace, no? Viene appunto, così accantonato, perché si ritiene, che non sia un mezzo, sufficientemente adeguato, per prevenire, ad esempio, il passaggio delle armi, perché spesso, il passaggio delle armi, avveriva, negli aeroporti. Quindi, ci troviamo di fronte, come dire, a una grande perdita di memoria, ma bisogna capire per quale ragione abbiamo perso la memoria di quegli avvenimenti, ed ecco perché il tentativo del volume, dicevo poc'anzi, è quello di cercare di gettare lo sguardo oltre la guerra fredda, e di capire qual è stato l'impatto del terrorismo sulle relazioni internazionali, qual è stato l'impatto sulle singole politiche estere dei paesi. Allora, nel volume troverete tantissimi casi, alcuni più conosciuti, le Olimpiadi di Monaco del 1972, che riguardava appunto Fernando Prima, il caso di Lockerbie, che appunto è la prima volta che in realtà viene ricostruito sulla base di documentazione archivistica, attentati minori, esempio a Parigi, aeroporto di Orlì, 1975, viene colpito due volte nel giro di 15 giorni, con una, come dire, una presa di diverse decine di ostaggi, e una crisi internazionale che si scatena e che si risolve a fatica. Quindi, troverete diciamo una serie di attentati terroristici, che ci portano a una serie di considerazioni. Parlo veramente un po' così a braccio, magari raccogliendo un po' le sollecitazioni. La prima è che è ben presto chiaro a questi organi della sicurezza degli stati, che i perpetratori di questi attentati non sono dei fanatici, non sono solo degli estremisti, ma sono in parte degli estremisti utilizzati da alcuni stati, che utilizzano il terrorismo per esercitare delle pressioni sulla politica internazionale. E questo è un elemento molto importante, perché significa a questo punto dover fare i conti con uno Stato che attua una, che realizza e appunto realizza una minaccia di carattere non convenzionale, un po' come le guerre ibride, di cui si parla tanto oggi. Non è uno scontro convenzionale, non c'è una guerra, ma c'è un attentato rapido che causa un grande scossone a livello di opinione pubblica, che causa una serie di problematiche ovviamente tra questi stati e che va risolto, e che va risolto diplomaticamente. Ecco perché parlo di strategia di appeasement, perché gli stati europei, quasi tutti, quando vengono colpiti da un attentato terroristico, invece diciamo hanno due scelte, nel momento in cui conoscono come dire il mandante di questo attentato terroristico, o scatenare una rappresaglia, che può essere diplomatica, economica o militare, oppure cercare di inglobare questo Stato, di farselo amico fondamentalmente, e quindi di far venire meno la ragione per la quale quello Stato ha lanciato un attentato terroristico contro uno Stato europeo. E questa seconda scelta è stata la scelta degli stati europei. Io ho utilizzato questa categoria appunto dell'appeasement, che è una categoria che viene utilizzata tendenzialmente appunto, parlando della strategia in particolare inglese, nei confronti di Hitler, prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, perché in realtà è una categoria che può essere utilizzata. Cioè cerchiamo di venire a dialogo, cerchiamo di venire quasi a patti con questi stati, sviluppiamo le relazioni commerciali, sviluppiamo le relazioni diplomatiche, in modo tale che questi stati non vogliano più, non abbiano più l'interesse a fare contro di noi attentati terroristici. È un win-win game, cioè appunto utilizzando questa espressione della teoria dei giochi, cosa ne abbiamo guadagnato? Chi ha vinto effettivamente? Ovviamente il titolo appunto del paragrafo delle conclusioni è un win-win game, tra parentesi, a breve termine. Perché? Perché in realtà se noi la guardiamo nel breve orizzonte, è un win-win game, cioè lo Stato che ha mosso l'attentato terroristico, ha ottenuto un'apertura dagli Stati europei, e quindi in parte ha raggiunto il proprio obiettivo. Dall'altro lato lo Stato europeo vede il diminuire degli attentati terroristici, e quindi ha raggiunto il proprio obiettivo in chiave di sicurezza interna. Perché è un win-win game, cioè un gioco così a somma positiva per ambo le parti, ma solo a breve termine? Perché se noi la vediamo in un'ottica di più lungo periodo, dobbiamo farci una domanda, con un'ottica ex post. Cioè questa storia del terrorismo arabo-palestinese dura fino alla fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta. Quando poi inizia un'altra storia? Inizia in realtà, se un po' si sovrappongono e si intersecano, però diciamo, a inizio anni Novanta inizia la storia del terrorismo religioso di matrice islamista, che poi conosce un'escalation e arriva all'11 settembre. Allora, il punto è che cosa questa strategia di appeasement degli stati europei può aver insegnato ai nuovi terroristi, ai terroristi di matrice islamista, di matrice religiosa, che hanno colpito l'Europa fino all'altro ieri, perché noi ce lo dimentichiamo, perché il Covid ce l'ha fatto dimenticare prima e poi la guerra in Ucraina, ma in realtà gli attentati terroristici colpiscono l'Europa anche in tempi molto recenti ed è solo veramente negli ultimi due anni che il terrorismo internazionale ha in parte esportato la propria lotta al di fuori del territorio europeo. Quindi, in termini di che cosa hanno vinto e hanno ottenuto, diciamo, e hanno compreso i terroristi contemporanei, ecco, questo è un tema che credo sia ancora ampiamente da dibattere, ma nel volume, non spoilerò tutto, perché sennò non lo compra più nessuno, ma nel volume troverete delle storie, alcune storie di biografie personali di alcuni terroristi che, appunto, hanno, diciamo, iniziato la propria carriera sovversiva nella resistenza, nel movimento palestinese, che gradualmente sono diventati dei mercenari e poi si sono avvicinati al terrorismo di matrice islamista. Quindi non possiamo stabilire, diciamo, una causalità diretta, ma sicuramente esiste un fil rouge, ecco, rispetto a questo. Io mi fermerei qui, ma così magari... uno che diventa un mercenario, indubbiamente, Carlos. La vicenda di Carlos è una vicenda assolutamente intrigante, non solo per i rapporti problematici e anche timorosi da parte dei paesi comunisti, ma Carlos è stato utilizzato da tutti. E' stato utilizzato da Ceaușescu per mandare bombe nascoste dentro Libri ad alcuni oppositori dissidenti, tra cui lo scrittore Paolo Goma. E' stato pagato un milione di dollari, lui e il suo gruppo, per fare un attentato a Monaco di Baviera, Radio Free Europe, Radio Liberty. E poi tutte le complicità, Germania orientale, Polonia, Ungheria, cioè in quasi tutti i paesi, ha avuto le case di sicurezza e tutto il resto. Oggi abbiamo una mole enorme di documentazione di archivio accessibile e anche pubblicata, soltanto di documenti pubblici dagli archivi cecoslovacchi, ci sono usciti due tomi così su Carlos e non è tutta la documentazione che c'è e lo scandaglio sta continuando negli archivi di molti altri paesi. Quindi allora era sopravvalutato alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, il ruolo dell'Unione Sovietica, ma poi dopo questa manina lunga c'è stata, anche se l'Unione Sovietica non ha mai gestito il terrorismo internazionale. perché c'è un problema? L'Unione Sovietica denunciava il terrorismo, ma il filo sottile che separa il terrorismo e una lotta di liberazione nazionale è un filo a geometria variabile. Se mi conviene va da una parte, anche perché l'ideologia marxista-einista permette molte variazioni dialettiche che è in corso da opera. Io, Carlos, indubbiamente ha vissuto anche di una vita, come dire, un po' mitica, giornalistica, certi periodi della sua attività terroristica sono stati molto romanzati dalla stampa italiana, sembra, o internazionale, non diamo agli italiani quello che è di tutto, quello che è di tutti, insomma. Però quest'uso anche dell'omicidio politico l'hanno fatto diversi regimi, non soltanto ceusesco, l'hanno fatto i bulgari, ci fu un personaggio che era molto addentro alle sfere del potere, era un intellettuale, un giornalista, Gheorghi Markov, che era in strettissimi rapporti anche personali con quasi tutti i dirigenti bulgari, tra cui Todor Zhivkov, il capo del partito, eccetera, che un bel giorno rompe con il regime e migra e comincia a fare trasmissioni che raccontano che cosa succede nelle stanze del potere. Questa era la cosa più devastante. Prima lavora alla BBC, poi va a lavorare al desk bulgaro di Radio Free Europe e poi un bel giorno arriva uno con un ombrello che gli spara una microscopica pallina di ricino nella gamba, una sfera che contiene del ricino, la sfera infinitesimale, ci hanno impiegato a trovarla, insomma ha due piccoli buchi che sono chiusi con una sostanza che si scioglie alla temperatura corporea e Markov muore. Abbiamo anche tante altre persone che vengono uccise per far capire chi è, anche se non lo puoi dimostrare. Poi queste ultime nuove generazioni dei cechisti della Russia di Putin sono anche stupidi, si fanno beccare da dei giornalisti, quello che ha cercato di avvelenare Navalny l'hanno anche intervistato e non ha capito che era Navalny stesso che lo intervistava. però ce ne sono stati tanti di omicidi così. Il primo laboratorio segreto, il primo dipartimento segreto della CECA, cioè il primo lembrione di quello che sarà NKVD, OGPU, NKVD, KGB, NKKB, KGB, poi dopo i servizi della Russia post-sovietica, è stato l'ufficio Veleni, il primo. Prendono il potere, fanno la struttura repressiva che combatterà una lunga guerra civile con la società, il primo dipartimento ipersegreto di questa struttura opacissima è il laboratorio Veleni. Avevano metodo. Un dipartimento del KGB pubblicava il libro di quelli da assassinare. Nel corso degli anni sono state fatte tre edizioni di un volume di 400 e passa pagine, molto segreto, in cui c'è una breve biografia, la fotografia, questo è crociato perché viene liquidato nell'ottobre dell'88. questo non è crociato ma è liquidato nel giugno dell'86. Questo invece nell'aprile dell'84, spesso morti, simulate da incidenti, eccetera. Era un metodo sistematico. L'altro paese più sorprendente che fa questo, come un certo periodo, lo ricorda Lomellini nel libro, parla giustamente della caccia dei libici ai profughi, a quelli che temevano, ai possibili oppositori e via di seguito. la Jugoslavia di Tito, l'Utba, ha fatto una sistematica caccia degli oppositori, cominciando prima dall'Italia, sicuramente il il primo assassinato mi pare che sia del 46, ma poi sullo suolo tedesco è stata una guerra da una parte e dall'altra, perché poi negli anni negli anni 70 quando ai vecchi dell'emigrazione sono subentrati giovani che venivano in Europa da un'emigrazione magari in Canada e in Australia che erano disincantati sulla possibilità che era evidente da tempo che le emigrazioni anticomuniste croate soprattutto ma non solo avessero un sostegno da parte dei paesi occidenti occidentali questo di sconsapevolezza che i i grandi progetti del dopoguerra sono naufragati li porta al terrorismo li porta a rispondere alle uccisioni che fanno i servizi l'Udba soprattutto uno di servizi con altre uccisioni quindi vengono assassinati consoli vengono assassinati funzionari di partito eccetera è una è una lunga guerra che poi avrà in cui un nazionalismo da una parte dell'immigrazione si trova dall'altra parte poi un potere che è sorprendentemente rigido rispetto soprattutto all'immagine che molti hanno di Tito perché tutto questo comincia ad avere una dimensione industriale nel momento in cui Tito è uno dei leader del movimento dei paesi non allineati e adesso non sembra più abbiamo conosciuto le guerre jugoslave le polizie etniche gli orrori ma decenni prima negli anni 70 80 60 e 70 perdone Belgrado era una delle grandi capitali della politica internazionale ma diciamo su questo punto si è forse due parole rispetto proprio al fenomeno terroristico interessante secondo me spenderle la pista jugoslava è una pista che torna molto spesso diciamo nelle riflessioni di questi organismi di questi network europei che si creano tra gli anni 60 e gli anni 70 e cercano di capire da dove effettivamente provenga questa capacità organizzativa questa capacità di attuazione di attentati giusto per fare un esempio perché appunto sempre prendendo come paragone l'11 settembre che rimane un po' nel così nella testa di tutti questo attentato pluriattentato con grande capacità strategica evidentemente ma nel 1970 in quelle condizioni appunto nelle condizioni degli anni 70 una parte appunto della resistenza palestinese è in grado di dirottare contemporaneamente per quattro aerei di prendere un intero aereo in ostaggio di farlo atterrare in Giordania di orchestrare una messa in scena mediatica incredibile per cui chiamano appunto i reporter nazionali ma anche internazionali per mostrare l'esplosione di uno di questi aerei quindi con anche una grande consapevolezza ripeto 1970 una grandissima consapevolezza dell'utilizzo del mezzo mediatico che noi attribuiamo all'ondata di terrorismo più recente allora a fronte di questa capacità organizzativa di questa anche visione politica potremmo dire per quanto sia ovviamente eticamente condannabile ma una visione politica c'è dietro una strategia di questo genere la grande domanda che si ponevano i servizi segreti europei è chi è che è in grado di orchestrare una simile campagna allora una delle risposte che viene data più di sovente è la Jugoslavia ma perché la Jugoslavia è uno dei paesi insieme alla Libia anche se in misura minore della Libia dove i terroristi sostanzialmente trovavano rifugio dopo aver concluso un attentato terroristico ed essere riusciti a scappare o essere indotti diciamo a scappare dalle autorità di sicurezza ma la più grande risposta è la risposta che in modo più convincente si dava nei servizi segreti soprattutto devo dire a cavallo tra gli anni sessanta e settanta era l'Unione Sovietica cioè dietro tutta questa pletora multiforme di movimenti terroristici di vario genere sicuramente c'è il Cremlino allora ecco perché appunto giustamente Fernando diceva nel suo incipit si parla di ossessione antisovietica perché in questa fase in particolare fine anni sessanta inizio anni settanta si ha la chiara percezione che sia la chiara idea che sia l'Unione Sovietica attraverso eventualmente i suoi paesi satelliti in particolare la Cecoslovacchia a foraggiare il terrorismo internazionale è vero non è vero allora una risposta così chiara è difficile darla senz'altro è vero che come dire l'Unione Sovietica condivideva con appunto alcune organizzazioni terroristiche di varia natura nazionalista politica piuttosto che appunto così poi di matrice religiosa l'idea che una destabilizzazione dell'Europa occidentale non era poi così male diciamo che la direzione l'obiettivo era il medesimo la destabilizzazione dell'Europa occidentale era senz'altro un elemento che veniva visto con favore dall'Unione Sovietica ma la come dire capacità organizzativa e anche la volontà come dire di gestire il fenomeno terroristico da parte dell'Unione Sovietica probabilmente si arrestava qui e da parte invece dei paesi europei vi era una sovraconsiderazione di quanto l'Unione Sovietica avesse come interesse diretto quello di sovvertire l'ordine dei paesi europei di destabilizzarli in modo profondo ricordiamoci che siamo in un periodo soprattutto diciamo negli anni settanta nei lunghi anni settanta di distensione internazionale quindi tutto sommato come dire questo elemento della destabilizzazione era importante ma non si pensava certo a un rovesciamento dei sistemi dei paesi occidentali questa sovravalutazione della capacità e della volontà dell'Unione Sovietica di sostenere i vari movimenti terroristici internazionali porta a due conseguenze entrambe negative la prima è che in questo modo i network della sicurezza internazionale europea non capiscono cos'è il terrorismo internazionale non lo capiscono per niente nel volume se avrete voglia di leggerlo troverete la dimostrazione che rispetto ad esempio all'attentato di Monaco non si è di fronte a come dire una volontà specifica di negare l'importanza o la possibilità di un attentato ma semplicemente si considerano così tante minacce da così tante fonti che a quel punto i servizi segreti sono incapaci di prevenire l'attentato perché non conoscono il fenomeno assimilano fenomeni che sono profondamente diversi e quindi non capendo il fenomeno ritenendolo etero diretto da parte dell'Unione Sovietica non riescono a prevenirne poi le più nefaste conseguenze e questo è il primo elemento il secondo elemento è che soprattutto diciamo a partire dal 73 74 quando ormai i servizi di sicurezza europei hanno iniziato a inquadrare il fenomeno e hanno iniziato a capire che più che l'Unione Sovietica dietro probabilmente ci sono altri paesi la Libia in primo luogo l'Iraq quasi contestualmente successivamente la Siria e quindi iniziano a elaborare questa strategia di appeasement di cui parlavo prima ecco in quella fase però i vari servizi segreti dei paesi europei non sono concordi sulla valutazione del fenomeno perché alcuni e in questo caso in particolare l'Italia che gioca un ruolo importante strumentalizzano la questione cioè sostanzialmente in questi dovete pensare consessi segretissimi dei network appunto dei servizi segreti a cui partecipano i vari rappresentanti dei paesi della comunità economica europea più gli Stati Uniti la Svizzera e qualche altro gli italiani si fanno costantemente portavoci dell'idea che il terrorismo arabo-palestinese altro non sia che un'altra faccia dell'eversione che prende così la forma delle brigate rosse in un caso che prende la forma dell'autonomia operaia in un altro e che quindi fondamentalmente facciano tutte parte di una tentativo dell'Unione Sovietica di destabilizzare l'Italia ora in questo senso a mio avviso la strumentalizzazione è lampante cioè non c'è una casualità lo ricordavamo in un'altra presentazione rispetto alle carte che io ho visto quindi non posso darne la certezza assoluta però rispetto al carico diciamo monte di carte che ho visto soprattutto l'archivio centrale di Stato in questo caso il rappresentante italiano al club di Berna che è questo club dei servizi segreti parla del terrorismo di matrice neofascista una volta sola una dicendo in una frase e siamo dopo la strage di Piazza Fontana quasi in concomitanza se non sbaglio con quella di Piazza della Loggia in cui dice sì ci sono anche attentati di matrice di destra e chiude la vicenda così quindi è evidente a mio avviso che c'è come dire un tentativo di plasmare l'idea e l'immagine anche dell'Italia per cui l'Italia è come si diceva in un documento francese l'homme malade d'Europa cioè l'uomo il paese malato d'Europa e che quasi diciamo i rappresentanti italiani autostigmatizzano il paese per fini poi di politica interna me l'hai tolto dalla bocca però ne approfitto per dire una cosa prima di porre una domanda Valentin la personalità italiana che era come dire il nostro rappresentante a questa riunione del cosiddetto club di Berna ha un nome e un cognome Federico Umberto D'Amato capo dell'ufficio affari riservati del ministero dell'interno il cosiddetto ufficio stragi lo ricordo semplicemente perché un'ora fa un'ora fa la corte d'assise di Bologna ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna del gastro di Paolo Bellini per la strage di Bologna lo dico di passaggio ma chiaramente il documento è di 1700 pagine mentre Valentin parlava scorrevo l'indice perché è stato depositato un'ora fa lungamente si parla di Federico Umberto D'Amato quello che si dimenticava delle stragi di destra nelle riunioni dell'intelligence europea però la domanda che volevo farti è questa già che Orlando ha posto Orlando ha proposto la questione dell'Unione della Jugoslavia e poi siamo arrivati all'Unione Sovietica io ti pongo l'opposta cioè di fronte a questa strategia di appeasement come l'abbiamo chiamata invece il nostro grande alleato gli Stati Uniti come si comportava perché nel momento in cui la violenza terroristica la minaccia terroristica come dire si fermava in suolo europeo gli Stati Uniti stanno dalla tappata dell'oceano però a un certo punto comincia ad arrivare anche da loro anche se indirettamente un caso l'Achile Lauro con una vittima americana Klinkhofer e tutto il caso di Sigonella e quindi il braccio di ferro fra Craxi e Reagan siamo nell'85 quindi eravamo già un po' avanti rispetto ai primi attentati degli anni 70 tra parentesi a proposito di Jugoslavia è in Jugoslavia che da Sigonella parte il volo va verso Jugoslavia per mettere a riparo a Bunidale tutti i suoi quindi come dire tutti gli elementi un po' ci sono in questo caso però la domanda è proprio questa di fronte a questa Europa così che un po' attentoni un po' cercando accordi ognuno un po' per sé sentono un vero e proprio effettivo coordinamento gli americani invece come dire quando serve usano il pugno duro come appunto circondare l'aerosi conella a costo di scatenare una crisi diplomatica con l'aleato italiano ecco e ancora doveva arrivare vettori gemelli quant'altro evidentemente ecco qual era l'atteggiamento americano nei confronti di questa chiamiamola strategia per modo di dire per quanto un po' disordinata europea no? perché forse anche questo è interessante da dire sì sì no senz'altro la strategia che evolve nel corso del tempo il primo attacco in cui diciamo vengono coinvolti in modo chiaro proprio in termini di vittime negli statunitensi è appunto l'attentato di Beirut fondamentalmente prima la crisi degli ostaggi del 1979 in Iran e poi l'attentato di Beirut nel 1983 allora io appunto in questo volume troverete anche la ricostruzione di questi avvenimenti e ho trovato particolarmente interessante vedendo proprio le carte dell'epoca il fatto che per quanto diciamo noi conosciamo degli studi attuali della storiografia sul tema soprattutto la storiografia che si occupa delle relazioni internazionali ma anche dell'evoluzione del fenomeno terroristico questi due frangenti 79 e 83 vengono letti come i momenti di svolta del terrorismo internazionale in particolare 1983 quando sostanzialmente la forza multinazionale in Libano viene indotta viene costretta a ritirarsi e questo segna una come dire un punto a favore a livello di immagine internazionale del terrorismo in particolare di Yesbollah in quella fase storica in realtà guardando le carte nello specifico questa percezione non c'era assolutamente cioè non c'era c'era l'idea che si trattava di crisi regionali che andassero quindi risolte come delle crisi internazionali diplomatiche non che il terrorismo potesse davvero diventare un attore diciamo delle relazioni internazionali la situazione invece cambia tantissimo con la presidenza Reagan con la presidenza Reagan in particolare la vicenda dell'Achille Laure Sigonella appunto dell'ottobre dell'ottantacinque che ricordavi ma soprattutto nell'aprile del millenovecentotantasei quando la discoteca La Bella di Berlino Ovest si viene attaccata è una discoteca fisicamente collocata a Berlino Ovest ma che tradizionalmente viene frequentata da militari statunitensi quindi come dire il target era probabilmente più vicino agli Stati Uniti che non alla stessa Germania occidentale in quell'occasione dopo come dire aver individuato in Muammar Gaddafi il principale responsabile da tempo dal millenovecentosettantatré dell'ondata di terrorismo arabo-palestinese che aveva scolto che aveva sconvolto l'Europa a quel punto gli Stati Uniti decidono di intervenire e bombardano Tripoli e Benghazi c'è e questo la dice lunga a mio avviso sulla differenza di percezione di attenzione ma anche di volontà politica tra i paesi europei e gli Stati Uniti l'amministrazione statunitense fa una sorta lo troverete nel libro una specie di tour diplomatico in cui spiega ai principali alleati occidentali Italia Francia Gran Bretagna e ovviamente Repubblica Federale Tedesca che ormai è giunta l'ora di liberarsi di questo uomo così imbarazzante complicato e che causa continuamente crisi terroristiche che è appunto Gheddafi e le reazioni sono molto differenti c'è un documento a mio avviso veramente interessantissimo appunto in cui si parla di questo colloquio tra il rappresentante statunitense e il presidente francese François Mitterrand in cui Mitterrand sostanzialmente non dice niente ma nel report c'è scritto che a fronte dell'idea che Gheddafi possa essere attaccato che la Libia possa essere attaccata e che Gheddafi possa essere ucciso Mitterrand sorride con piaciuto senza aggiungere una parola e questo come dire la spiega lunga sull'atteggiamento a quel punto della Francia nei confronti del leader libico per converso Craxi presidente del consiglio e Andreotti ministro degli esteri fanno una opera di un tentativo di mediazione estenuanti nei confronti appunto di Reagan e dei rappresentanti americani per cercare di convincerli che attaccare Gheddafi è un errore enorme che avrebbe portato a una destabilizzazione sulla sponda sud del Mediterraneo che avrebbe inevitabilmente compromesso anche la situazione italiana e la sicurezza italiana che tutto sommato era vero che Gheddafi aveva delle responsabilità rispetto al fenomeno terroristico ma che altri paesi condividevano queste responsabilità e devo dire qui una battuta perché insomma io non sono un americanista e quindi ho visto una parte ovviamente della documentazione americana mi ha molto stupito il fatto che gli stessi report della CIA che individuavano la capacità e il coinvolgimento di alcuni paesi arabi e medio orientali nel terrorismo internazionale in realtà limitasse la responsabilità libica a metà anni 80 a una piccola fettina mentre la Siria e l'Iran erano i due attori principali c'è uno studio molto bello di un collega che si chiama Matteo Aldo che dimostra che in realtà l'obiettivo Libia diventa un obiettivo per gli americani che gli americani considerano la Libia un obiettivo militare più fattibile rispetto a appunto l'idea di colpire l'Iran e o la Siria chiudo dicendo appunto c'è un'altra strage molto importante la più grande strage in termini di vittime di questo tipologia di terrorismo che è quella di Lockerbie che avviene nel dicembre del 1988 e che a mio avviso è particolarmente interessante per varie ragioni la prima è perché ovviamente viene colpita l'Inghilterra ma l'Inghilterra fa che pur aveva dato la disponibilità delle proprie basi aerei per il bombardamento dell'86 ma Margaret Thatcher lo dice da subito in modo molto chiaro noi non reagiremo militarmente ma invece diciamo come dire sviluppano una opera eh diplomatica e poi di strangolamento direi economico del regime libico di concerto con gli altri paesi europei e anche gli Stati Uniti nella cornice delle Nazioni Unite che è una scelta molto diversa e l'altro elemento a mio avviso interessante che troverete nel volume è che questa strage avviene appunto alla fine dell'88 allora noi molto spesso siamo inclini però vi ragioni a parlare della fine della guerra fredda l'anno successivo crolla il muro di Berlino il nove novembre dell'ottantanove finisce la guerra fredda in realtà curiosamente eh il piano della sicurezza internazionale che è il piano più gelosamente custodito da ogni singolo stato dimostra che c'erano movimenti di superamento della guerra fredda in termini molto chiari e concreti perché perché la Gran Bretagna instaura una collaborazione un dialogo con la Cecoslovacchia che è il principale paese da sempre ritenuto territorio di addestramento dei terroristi per cercare insieme di capire da dove proveniva il Semtex che era questo esplosivo che era stato trovato sull'aereo appunto fatto esplodere sopra la cittadina di Lockerbie quindi in questo senso secondo me è una molto interessante perché noi sappiamo ovviamente c'era il dialogo Reagan Gorbachev ma come dire anche sul piano della sicurezza internazionale superando l'idea che l'Unione Sovietica che la Cecoslovacchia che l'Est Europa sia dietro il terrorismo internazionale questo è il segnale concreto del superamento diciamo della della guerra fredda non sono convinto non sono convinto perché la vicenda del del Semtex che cosa gli danno i cecoslovachi gli danno la formula e la tracciatura che ce l'avevano già gli occidentali gli danno i pezzi sì vabbè perché se si trova un kalashnikov per forza la mano è sovietica e quando hanno usato la usi c'erano dietro gli israeliani però 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 vorrei articolarlo meglio questo perché c'è anche in un altro punto che che viene detto che ci sono già degli elementi di 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 questa distensione eccetera e allora mi sono andato a guardare le date si parla dei mesi tra febbraio e aprile del 1986 eh Gorbaciov era segretario generale del CUS dal marzo e la sua parola d'ordine non era ancora la perestroica non era ancora la glasnost ma era un'altra era l'usk askarenie che cosa vuol dire voleva dire accelerazione perché per il primo anno e mezzo Gorbaciov non ha eh parlato di riforme ha parlato soltanto di rimettere a posto la società con metodi puramente amministrativi puramente bolshevichi eh gli stessi che aveva impiegato eh Andropov nel breve periodo in cui è stato segretario generale del CUP che come si traduceva che ne so se trovavi uno per la strada che era che se n'era andato a fare la spesa invece che essere sul posto del lavoro come succedeva da molte parti perché bisognava fare a volte delle code di ore eccetera questo veniva veniva sottoposto come dicevano allora a metodi profilattici veniva sanzionato veniva veniva anche incarcerato i metodi amministrativi sono quelli con cui si fa la campagna contro l'alcolismo punendo molto gli alcolizzati potenziando i dispensari anti-alcolici ma facendo delle fesserie incredibili distruggendo i vigneti una delle poche poste positive contro il primo ministro perché una delle poche poste positive del bilancio dello Stato oltre che la vendita degli idrocarburi e delle armi era il dazio sugli alcolici in Romania distruggono tutto dalle altre parti nel caucaso obbediscono alla caucasica e lì non lo fanno ma però si creeranno un buco nelle casse dello Stato la politica anti-alcolica che quando finisce l'unione sovietica questo buco non è ancora stato chiuso quindi nell'86 non c'era quello poi quello che la presa di distanza dal terrorismo internazionale c'era la condanna a geometria variabile del terrorismo internazionale nell'86 nonostante che il paese si stesse sviluppando in una crisi di tipo sistemico continuava a dispiegare la potenza esattamente come a 360 gradi in tutto il mondo esattamente come avevano fatto negli anni della distensione gli anni della distensione sono gli anni in cui c'è la proiezione per esempio della marina militare sovietica su tutti gli oceani e ci sono direttamente per procura la maggior la maggior presenza di consiglieri impegnati in Africa eccetera molti per interposta persona cubani tedesco orientali cecoslovacchi in alcuni casi anche direttamente uomini del KGB un paio di quelli della cerchia di Putin oggi al potere facevano per esempio i traduttori per il KGB in Angola traduttore è un termine probabilmente a geometria variabile come la condanna del terrorismo quindi la situazione era più complicata l'Unione Sovietica continua a fare delle alla fine quando l'Unione Sovietica sta finendo uno dei motivi per cui non viene aiutato non viene fatto niente contro di loro da parte degli americani a differenza di quello che è la narrativa anzi fanno anche delle cose per mantenerle in piedi quando si sta sgretolando tutto alla fine di luglio Bush a fare un discorso alla rada ucraina in cui bacchetta gli ucraini il loro nazionalismo il fatto che se ne vogliono andare dall'Unione Sovietica è un discorso che diventerà famoso e su cui molti hanno organizzato perché di lì a poco il referendum dell'Ucraina un paio di mesi tre mesi dopo è quello che fa finalmente l'Unione Sovietica il discorso il chicken kiev è diventato il pollo la Kiev ma l'Unione Sovietica fino alla sua fine continua a sviluppare armi che non avrebbe mai dovuto sviluppare perché ha firmato dei trattati internazionali e mette in piedi un enorme progetto di creazione di armi biologico-batteriologiche che non hanno antidoti gli occidentali non l'avevano capito finché non defessionano alcuni e tra questi un ufficiale casaco al Ibeca esisteva una grande struttura di ricerca con oltre centomila impiegati con laboratori di ricerca sparsi su tutto il territorio del paese che si chiamava biopreparato dietro le ricerche sulla per la qualità della produzione agricola eccetera c'erano soltanto ricerche batteriologiche e biologiche l'Unione Sovietica era riuscita a fare un'arma che non aveva e aveva trovato anche il modo per diffondere l'arma biologica batteriologica perché erano riusciti a incapsulare questi agenti delle dimensioni di un micron all'interno di un polimero che li avrebbe protetti dalla luce solare cioè quello che distrugge le armi biologico batteriologiche quando vengono vaporizzate gli americani ne vennero a conoscenza praticamente tra la fine del 90 e i primi mesi del 91 e si posero un problema gravissimo di difficile soluzione denunciamo pubblicamente l'Unione Sovietica per quello che sta facendo e che ha fatto l'Unione Sovietica stava implodendo e quindi si rischiava di trasformare un paese che aveva molto ceduto nella corsa degli armamenti ma non in questa operazione segreta lo diciamo di fronte alla popolazione mondiale che c'è un'arma che non ha che non ha antidoto e risolsero la questione con dei litigi continui dei due ambasciatori americano britannico perché le persone avevano defezionato una in Gran Bretagna e gli altri tre negli Stati Uniti a maggio del 92 si dice che questo questo come dire tutto questo apparato sia stato smantellato molte ispezioni hanno siamo già negli anni di l'anno primo anno di Helsing molte ispezioni hanno testato che sono stati effettivamente distrutti l'unica cosa bizzarra che ha fatto a lungo molto insospettire che alcuni di quei capi di tutti i militari che erano a controllare questo enorme biopreparata sono diventati a maggio del 92 i capi di un'altra struttura molto opaca che si incaricata di combattere quello che avrebbero fatto fino al giorno prima e qualcuno sospetta che non tutto sia stato effettivamente distrutto cioè sono anni complicati quelli della fine dell'Unione Sovietica l'Unione Sovietica Garbaciov andrà a chiedere al G7 di Londra gli soldi che un prestito che è equivalente ai soldi che davano ogni anno a Cuba non li riceverà giusto per per precisare perché altrimenti non ci capiamo che in realtà stiamo dicendo la stessa cosa allora intanto la vicenda del Semtex è una vicenda diversa nel senso che il Semtex è come dire scambiato dopo una lunghissima negoziazione tra i cecoslovacchi e gli inglesi cioè i cecoslovacchi danno il campione scusate gli inglesi danno il campione ai cecoslovacchi e si scambiano questi campioni ma attenzione in funzione antisovietica perché l'idea era di cercare da parte degli inglesi di cercare l'aiuto dei cecoslovacchi per capire se quel Semtex veniva dalla Unione Sovietica ora è ovvio che cioè lungi da me pensare che appunto la provenienza dell'esplosivo piuttosto che della mitragliatrice no no perché in realtà c'è chi lo pensa perché molto spesso viene citata anche non so in merito appunto alla vicenda legata a Moro il famoso discorso delle scorpione degli scorpione eccetera eccetera in realtà il traffico di armi era molto più complesso quindi non è perché un'arma appunto un esplosivo viene da un paese che necessariamente viene dato direttamente viene dato direttamente e poi ecco l'altro elemento secondo me interessante è che collima con quanto dicevi tu dei primissimi anni primi mesi della leadership di di Garbaciov è che vado un po' a memoria ma c'è questo dialogo tra Garbaciov e Andreotti se non erro credo che sia dell'ottantasette ma appunto vado a memoria in cui Andreotti chiede al leader sovietico notizie di Abunidal allora Abunidal era una specie di primula rossa ehm ex rappresentante dell'OLP a inizio anni settanta eh in vari paesi appunto del del Medio Oriente poi distaccatosi e postosi chiaramente sul fronte del rifiuto diventa va a capo diciamo una delle cellule più oltransiste più estremiste e maggiormente responsabili di attentati a livello internazionale ehm diventa uno di questi specie diciamo possiamo dire di mercenari a metà degli anni settanta come come Carlos e come alcuni altri ehm e appunto Andreotti eh chiede notizia a Garbaciov in seguito alle vicende di dell'Achille Lauro ma soprattutto di Fiumicino settantacinque perché lì scusate ottantacinque perché lì eh come dire l'idea degli italiani è che sostanzialmente sia stata una cellula vicino a Abunidal a compiere l'attentato probabilmente su ehm spinta e sovvenzione siriana questa è l'idea e in quel caso Garbaciov risponde in modo estremamente sintetico dicendo io non so niente quindi è chiaro che ci sono sono anni molto densi però a mio avviso ecco eh è sintomatico che un paese come la Cecoslovacchia che da sempre cioè storicamente appunto dalla vicenda degli esuli italiani in Cecoslovacchia ehm dopo la seconda guerra mondiale viene eh tacciata di essere il paese che eh così ospita campi di addestramento di terroristi di vari paesi apra alla collaborazione tentando di affrancarsi anche in parte dall'immagine appunto di un paese sovvenzionatore e sostenitore del terrorismo internazionale e iniziando a prendere le distanze anche insomma dall'Unione Sovietica per certi versi quindi in questo senso mi pare mi pare sintomatico interessante io una sola battuta perché sulla Cecoslovacchia perché nel corso degli anni eh anzi le ho viste anche prima che aprissero gli archivi se devo non è un segreto perché l'ho anche scritto eh che abbia occasione di vedere le carte sugli italiani prima che aprissero gli archivi ma tutto ciò che riguarda i rifugiati in Italia italiani e sfiltrati in Cecoslovacchia è una vicenda penibile anche la maggior parte di questi vengono mandati a lavorare o a disboscare boschi e oppure nelle miniere e tenendoli giovani tenendoli assolutamente isolati per motivi cospirativi dal resto della popolazione poi c'era un gruppo molto molto limitato che fa una scuola quadri mutuata da quella delle frattocchie ci sono anche i registri giorno per giorno accessibili quindi si fa tutto quello tutto quello che si fa è registrato e anche lì con una perfidia non viene insegnato il cieco agli studenti poche volte viene dopo proteste viene fatto e questa e questa scuola era in una cittadina al di fuori del raggio permesso di circolazione dei diplomatici occidentali a Praga era in questo una villetta una villa una villa che adesso non esiste più a Dobcikovice quando sono anche stati pubblicati da donno in un libro la Gladio Rossa mi pare il titolo una delle cose che facevano gli italiani che avevano la possibilità non avendo problemi con la giustizia perché la maggior parte di quelli che erano stati sfiltrati in cecoslovacca erano colpiti da sentenze molto pesanti per accuse che andavano dall'omicida omicidi eccetera andavano in ambasciata e ovviamente in ambasciata gli chiedevano informazioni che fossero sensibili ora tutti i sono pubblicati tutti i dispacci che manda l'ambasciata italiana in cui riferisce di addestramenti eccetera alla fine hanno tre righe che nessuno si perita di ricordare il diplomatico che scrive il messaggio dice noi non siamo in grado di confermare che quello che c'è stato raccontato corrisponde al vero tutti sono così questa storia poi finisce sui giornali io mi ricordo che ero molto piccolo ricordo abbastanza però delle discussioni a casa mia sulla cecoslovacchia perché mia mamma leggeva anche i giornali settimanali quelli ai popolari e sui settimanali popolari ritornavano venivano pubblicate le storie sui cecoslovacchi come sarà negli anni settanta quando torna fuori la pista cecoslovacca la pista cecoslovacca viene fuori quando restano Curcio e Franceschini viene fatta una conferenza stampa c'è assieme al magistrato un capitano dei carabinieri che poi finirà al SID eccetera che si chiama Pignero in conferenza stampa questo dice li abbiamo presi perché li pidinavamo finché fin dal momento in cui sono ritornati in Italia nel corso della conferenza stampa nessuno chiede da dove venivano però quando finisce la conferenza stampa un giornalista glielo dice e il giorno dopo in un articoletto insignificante perché quella conferenza stampa l'articolo più grande forse quello pubblicato dalla stampa perché avviene a Torino e tutti il resto ma stiamo parlando di articoli vicini alle breve del mondo viene citata la cecoslovacchia da lì da quel momento comincia a essere uno che dà un rapporto anonimo di un confidente al centro CS del SID di Bologna che dice della pista cecoslovacca eccetera eccetera ora io ho le carte sui cecoslovacchi sono anche facili da vedere quelle sugli italiani in cecoslovacchia perché metà sono scritte in italiano quando la metà non è scritta in italiano sono scritte in francese e poi l'altra metà quelle degli anni 50 eccetera sono quasi tutte scritte in russo e dopo cominciano a esserci quelle scritte quelle scritte in ceco la scuola i registri della scuola di Dobczykowicz non hanno una sola ora di addestramento militare il direttore della scuola veniva mandato non era un esule veniva mandato direttamente dal pc e veniva preso dalle frattocchie e in alcuni casi è stato anche uno dei principali responsabili della scuola quadra squadri del partito romano questa questa notizia anche io ho intervistato un personaggio incredibile facendo questa ricerca questa ricerca mi mi nasce dal fatto che ho lì e adesso lo pubblicherò la biografia di un di un transfuga un generale un generale cecoslovacco che non ho mai finito ma che adesso finisco che si chiamava Jan Scheina questo Jan Scheina fugge era uno stalinista amico del figlio di Novotny era il più alto in comando della catena politica del patto di Varsavia in cecoslovacchia uno stalinista peraltro in un'epoca erano stalinisti tant'è che poi un generale polacco ancora vivo cecoslovacco ancora vivo che ho intervistato una ventina di anni fa mi disse quando abbiamo saputo che se n'era andato hanno pensato che fosse andato a Mosca e invece era andato a Trieste e dal di lì poi viene mandato a Roma e poi da Roma in Germania eccetera questo Scheina negli anni 70 viene intervistato da Michael Lydin quello che è l'interprete allievo di Renzo del Filice ma che è l'interprete per esempio di Sigonella per Reagan Michael Lydin fa tre puntate o due paginoni o due o tre paginoni adesso non ricordo sono carte su cui non metto le mani da una vita in cui intervista Scheina e Scheina gli fa e viene pubblicato anche un autografo di Scheina in cui indica una serie di italiani che sono stati addestrati in cecoslovacchia mi arrivo alla conclusione viene pubblicato sul giornale uno di questi che poi denuncerà non se ne accorge questo lavoro di Lydin in una strana copiata che uno rimbalzava le cose dell'altro viene ripreso da Claire Sterling in un libro Un mondo di ladri pubblicato in italiano e dentro c'è tra quelli che sono stati addestrati dalle Brigate Rosse c'è un architetto torinese la cui unica breve fugace partecipazione alla politica è di aver firmato nel 67 come direttore responsabile un numero dei quaderni rossi quando vede l'anticipazione del libro in cui è citato dall'Espresso denuncia l'Espresso e la Claire Sterling la causa non si è mai tenuta perché la Claire Sterling ha scritto una lettera di quelle mi metto un po' di cenere nei capelli ho sbagliato e poi mi faccio una doccia e quindi ho di nuovo la testa a posto l'Espresso ha pagato una cifra notevole quando cercavo queste carte in tribunale non ci sono perché non si è mai chiusa l'udienza con la transazione extra giudiziaria tra le parti stavo per abbandonare tutto questo quando un bel giorno mi sono arrivati in una busta anonima quindi ho la lettera della Sterling e tutta la transazione questo metodo di costruire le notizie in questo modo è tipico degli anni di Reagan viene fatto Team A e Team Biswe eccetera e Reagan fa organizzare all'interno la CIA che si deve confrontare con una commissione fatta da studiosi ma anche da questi ciarlatani che gonfiano le notizie perché le notizie alla Sterling e agli altri sono più appetibili di quelle che venivano dall'interno dell'agenzia e questo ha fatto tutta una serie di disastri che esulano dal libro di Valentine che si occupa di altri temi c'è qualcuno di voi io ho rubato un sacco di tempo su questa cosa ma la c'è coslovagna che vuole chiedere qualcosa intervenire certo può venire qua per cortesia perché siamo è venuto preparato no no ma non mi metto a sedere resta in piedi ma no Valentine sto in piedi non ti preoccupare allora due cose volevo chiederti Valentine mi permetto di darle del tu perché ci conosciamo da 15 anni siamo colleghi da 15 anni sì almeno abbiamo fatto avete fatto una discussione molto ampia davvero che ha toccato molti aspetti però mi sembra che dopo un po' ci siamo persi che cos'è il terrorismo ovvero siamo in grado di definire il terrorismo e un grado di elasticità nella definizione di terrorismo ovvero anche la parte opposta le politiche di antiterrorismo perché trattare o assumere una posizione di fermezza diventano paradossalmente politiche di antiterrorismo tra le altre cose questa cosa mi è venuta in mente mentre parlavi di Craxi Andreotti Craxi dopo Sigonella va alle camere Paragonara Fat a Mazzini facendo arrabbiare moltissimi repubblicani l'altra cosa che volevo chiederti che è un riferimento che hai fatto prima tu parlando degli italiani che che legano il terrorismo internazionale alle vicende nazionali c'è una lezione c'è una lezione nazionale che viene proiettata su quella internazionale e viceversa una lezione italiana o tedesco occidentale o di di qualsiasi altra realtà che hai visto tu tutto qui grazie allora e dunque sulla definizione del terrorismo è una questione estremamente complicata perché in realtà a livello scientifico c'è ancora un dibattito molto aperto e non siamo di fronte a una definizione condivisa questo diciamo rispecchia un po' anche l'uso strumentale che è stato fatto del termine terrorismo perché ovviamente etichettare lo si diceva prima no un movimento che fa uso di mezzi che potremmo definire terroristici ma definire diciamo un'organizzazione come terroristica o definirla come un'organizzazione che è un movimento di liberazione nei confronti diciamo dell'opinione pubblica ma anche rispetto ai policy makers questo come dire incide molto sulla scelta della politica da adottare perché così a senso comune il movimento di liberazione nazionale potrebbe essere qualcosa da sostenere più che da combattere quindi questo è un po' l'ho detto veramente in modo molto sintetico e sgrammaticato storiograficamente però è un po' il dibattito che c'è stato nel corso degli anni settanta e ottanta in tempi più recenti la scelta che io personalmente esposo degli studiosi del terrorismo è stata quella di dare una definizione abbastanza vaga e onnicomprensiva che come dire possa contemplare l'idea che un'organizzazione in alcune fasi della propria storia possa utilizzare dei mezzi terroristici in altre fasi no per cui si solleva come dire e si accantona la dimensione etica e si considera invece solamente la dimensione pratico-organizzativa e per certi versi anche politica tendenzialmente la definizione più condivisa a livello internazionale del terrorismo è quello dell'utilizzo della violenza politica con quindi una finalità ben precisa che la distingue dalla criminalità organizzata piuttosto che dal crimine comune che rivela una grande consapevolezza e un uso strumentale e consapevole dei mezzi di comunicazione e che tende ad avere un effetto non solamente sulle vittime ma avere un effetto allargato una specie di eco che si espande oltre le vittime le vittime del singolo attentato terroristico questo ovviamente fa riferimento storicamente parlando a una tipologia di terrorismo più stragista che non selettiva cioè quindi meno definibile e assimilabile a un terrorismo come quello delle brigate rosse ma più assimilabile all'eversione e allo stragismo e al terrorismo neofascista per fare due esempi perché l'effetto eco e l'effetto di amplificazione della paura sono stati considerati tra gli elementi più importanti e centrali nella definizione del fenomeno terroristico detto ciò la definizione di politiche antiterroristiche secondo me in modo chiaro quantomeno a livello europeo è stata condivisa solo in modo veramente convinto e convincente dopo il 2015 dopo gli attentati appunto a Parigi sostanzialmente la serie di attentati che si ricorda appunto intorno al Bataclana ecco per intenderci perché lì viene meno la pregiudiziale francese che se voi vedrete il libro perdura per tutta la guerra fredda ed è la Francia veramente uno dei paesi che principalmente pongono questo tema a livello europeo della possibilità di valutare più o meno positivamente sotto il profilo etico un movimento di liberazione di definirlo terroristico perché hanno dei legami e questa è una delle lunghe eredità del novecento di cui parlo nelle conclusioni hanno dei legami di natura postcoloniale potremmo dire con alcuni paesi che sono promotori sono ritenuti promotori del terrorismo internazionale quindi una questione molto complessa ma devo dire si arriva a una soluzione in tempi una soluzione parziale in tempi estremamente recenti la lezione nazionale proiettata a livello internazionale allora questi network che vengono creati nel corso degli anni settanta prima il cosiddetto club informale di Berna dei servizi segreti europei che poi assume la forma del network trevi sono sostanzialmente l'uno l'evoluzione dell'altra questi network di sicurezza internazionali prevedono una forma di scambio dei saperi e di formazione dei quadri intermedi della sicurezza nazionale in questo senso a partire diciamo dall'inizio degli anni settanta inizio metà settantatré settantacinque e poi in modo più spinto nella seconda metà del decennio effettivamente c'è uno scambio dei saperi molto interessante perché molto pragmaticamente vengono individuati una serie di casi di studio di crisi terroristiche che vengono presentate analizzate e spiegate anche nei termini proprio della loro risoluzione da i servizi segreti di alcuni paesi nei confronti appunto degli altri paesi europei di parte del network a farla da padroni in assoluto sono gli inglesi in questo perché gli inglesi hanno l'esperienza alle spalle dell'ira della gestione ovviamente del terrorismo nazionalista irlandese e hanno acquisito una serie di capacità organizzative di analisi e anche dei veri modus operandi che sono stati come si sono stratificati nel tempo e che vengono condivisi con questo network europeo cito solamente due cose che mi hanno particolarmente interessato la prima è stata la capacità a mio avviso non comparabile con gli altri paesi europei della capacità di gestire delle crisi con ostaggi che sono crisi terroristiche particolarmente delicate e sensibili e la seconda è stata come dire la loro capacità di stabilire delle regole più o meno precise nei rapporti con i media durante la crisi terroristica noi sappiamo spesso citiamo la vicenda di Aldo Moro il grande dibattito sulla stampa rendiamo note o meno le rivendicazioni delle brigate rosse eccetera in realtà negli anni precedenti è Paul Wilkinson che poi appunto si sarebbe occupato a lungo di terrorismo internazionale avrebbe anche cercato di creare un centro ad Aberden dove all'epoca faceva il ricercatore su questi temi ad aver già individuato una modalità relazionale con i media durante la crisi terroristica che tentasse di non imbavagliare la stampa da un lato ma allo stesso tempo di tutelare gli ostaggi dall'altro quindi in questo senso chiudo con una battuta quando appunto viene chiamato questo esperto della BBC che spiega qual è il metodo inglese nella gestione appunto del rapporto con i media durante l'attentato il commento degli italiani è fantastico nel nostro paese non si potrebbe mai fare grazie a tutti io vi consiglio caldamente di questo libro di leggerlo perché è ricchissimo di informazioni vi accorgerete quando lo prendete in mano vedendo quante note ci sono e quante pagine occupano quanto lavoro c'è stato fatto di scavo e di raccolta di documentazione negli archivi è un libro che vale davvero la pena di leggerlo di là grazie a voi buona serata grazie grazie a tutti